Grazie a tutti solo il primo movimento che è una sorta di musica diciamo così un po' arabbeggiante con delle ritmiche anche un po' particolari niente, ve lo proponiamo e vi auguriamo a tutti voi un buon divertimento grazie 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 Grazie. Una fantasia di Ennio Moricone, che vede protagonista tutte le musiche principali di quest'autore. In un brano avremo anche l'occasione di ascoltare la voce del soprano Cristina Corti, che la invito qua. A voi, Moment for Moricone. Grazie a tutti. 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 a tutti.